Le professioni legate al mondo della visione si sono incontrate alla fiera Mido Milano Eyewear Show in un convegno organizzato da Fabiano Gruppo Editor insieme a Mido che si è concentrato sul rapporto tra la tecnologia, il made in Italy e il mondo della salute. Molte delle ricerche portate avanti infatti offrono soluzioni anche agli oculisti. Io credo che questo tipo di confronto sia utilissimo, non soltanto perché ci mette in contatto con una controparte commerciale ma comunque utilissima, ma anche perché è dal confronto che nascono molte idee nuove, molte idee che sono veicolate proprio da un'industria che per fortuna ha le risorse mentre voi sapete che spesso le università non hanno le stesse risorse. Speriamo che ci sia un confronto utile e anche produttivo per il paziente, perché l'interesse nostro è il paziente. L'incontro si è focalizzato sul modo più efficace per utilizzare la tecnologia in una visione futura che rispetti le due principali categorie che lavorano nel comparto, la classe medica e i professionisti ottici. Noi abbiamo un'attività specifica di supporto a livello di centro di ricerca, quindi collaboriamo con l'università, cerchiamo di favorire il dialogo fra le professioni, quindi chiarezza sul ruolo dell'ottico rispetto al medico. crediamo che da questo dialogo possano nascere più opportunità e migliori risposte per i clienti. La tecnologia comunque da sola non basta e soprattutto non può sostituire le risorse pubbliche per reparti ospedalieri e pronto soccorso oculistici, che sono sempre più scarse e rendono precaria la situazione dell'oculistica nel Servizio Sanitario Nazionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.